Allora mister, buonasera, volevo sapere due cose, uno se è soddisfatto di questo punto e poi se non pensa che la Viterbese forse poteva provare qualcosina in più per vincerla? Sì, soddisfatto, è una male che quando non si vince non si è mai veramente soddisfatti però è stata una partita non semplice, ce l'aspettavamo, l'avevamo preparata così perché comunque avevamo questo sentore abbiamo trovato una squadra che è venuta qui molto compatta, che si è difesa bassa chiudendo ogni linea di passaggio ci hanno reso la partita molto sporca e noi nelle situazioni dove siamo riusciti a trovare il buco e comunque abbiamo difettato sempre un po' in qualità, queste sono partite dove il guizzo anche individuale del giocatore dove la giocata importante te le può far sbloccare, noi non siamo riusciti a trovarla e quindi abbiamo finito 0-0 va bene, quando non si può vincere non si deve perdere, io tutto sommato sono soddisfatto dell'attenzione che ci hanno messo i ragazzi non era facile, abbiamo praticamente sempre fatto la partita noi e non era facile con i giocatori che avevano loro non prendere quasi mano a ripartenza ma siamo stati bravi, abbiamo sempre fatto benissimo la marcatura preventiva quindi non gli abbiamo concesso praticamente niente, Daga è stato inoperoso dall'altra parte del campo invece secondo me potevamo fare qualcosina in più ripeto anche nella qualità di scelta dell'ultimo passaggio che è un po' un difetto che ci portiamo dietro sinceramente secondo me è vero che non abbiamo proprio quel giocatore dalla qualità sopraffina però abbiamo buoni giocatori che secondo me potevano darci qualcosina in più poi il secondo tempo purtroppo davanti non avevamo grosse soluzioni con le due squalifiche i due infortuni sinceramente eravamo anche limitati dal punto di vista delle scelte infatti ho dovuto cambiare modulo anche per questo perché mi rendevo conto che insomma davanti avevamo solo Simonelli e Rossi e poi Menghi che me lo sono tenuto almeno per far rifiatare Simonelli infatti poi ha avuto i crampi e l'ho sostituito si può lavorare secondo me su questo modulo è normale che lo facciamo la prima volta, l'abbiamo preparato anche in pochi giorni e ci sono tante cose da migliorare ma questa squadra secondo me lo può fare perché mentre al campo comunque abbiamo un discreto palleggio è normale che poi dobbiamo riuscire a sfruttare meglio, ripeto, alcune situazioni dove un po' gli attaccanti dovevano venire a darci un tempo di gioco in appoggio e un po' anche Federico l'ha fatto bene a destra, Urso un po' meno ha iniziato bene poi piano piano gli avevo chiesto di darci più ampiezza a lui e di tenere dentro la mezzala però aveva iniziato benissimo ci ha fatto sperare bene subito con quella progressione invece poi è stato un po' troppo timido nella spinta però va bene così, prendiamo di buono il punto prendiamo di buono che la squadra sta continuando ad avere solidità e il dispiacere grosso per il gol subito a Bicelli altrimenti sarebbe stata la quinta partita senza subire gol è secondo me un dato importante perché la squadra denota organizzazione in questo momento difende da squadra e questo è un buon punto di partenza poi io sono convinto che davanti possiamo crescere ancora tanto quando dico davanti non dico solo negli attaccanti ma dico nelle giocate offensive sia nella scelta dei centrocampisti sia nell'inserimento sia nell'attacco dell'aria secondo me possiamo fare di più quindi due lati positivi in una partita onestamente non indimenticabile ma anche perché non avete avuto un avversario che va dato anche la possibilità di giocare in un certo modo perché era molto abbottonato però ecco in casa se non sbaglio Ternana a parte insomma questa è la quarta partita che la Viterbese non subisce gol Teramo, Turris, Cavese e oggi la Vibunese quindi è un dato importante la squadra d'oste e poi secondo me è una squadra che fisicamente in questo momento sta bene ho visto una squadra che nonostante avesse giocato mercoledì la Vibunese no da questo punto di vista ho fatto un complimento ai ragazzi perché si vede, io lo dico avvertamente, a parte che stanno lavorando bene ma probabilmente anche la vita privata la stanno curando io gli ho chiesto di fare degli sforzi e sul campo si vede che c'è questa attenzione teniamo presente che con tutte le defezioni che abbiamo avuto oggi avevamo soprattutto davanti pochissime soluzioni e spesso stanno giocando gli stessi però la condizione fisica è stata più che buona questo dato del non prendere gol secondo me è un dato importante e ti ripeto, soprattutto quando fai una partita del genere dove comunque hai quasi sempre avuto il pallino del gioco e loro avevano Prescia, Statella e Berardi che sono tre giocatori veloci che in ripartenza ti possono mettere in difficoltà invece abbiamo sempre aggredito bene abbiamo sempre fatto la transizione negativa benissimo abbiamo sempre fatto la marcatura preventiva gli abbiamo concesso veramente poco dispiace, ripeto, non aver trovato il guizzo magari anche abbiamo avuto oggi due o tre palle inattive anche favorevoli è vero che non abbiamo forse un grande specialista però potevamo calciare meglio, secondo me Nicolas ha il calcio per far male abbiamo Palermo, abbiamo Urso potevamo fare meglio anche sulle palle inattive però va bene, ripeto bisogna prendere quello che è venuto indubbiamente sulla fase offensiva per me dobbiamo lavorare speriamo di recuperare un po' di giocatori anche perché l'ultimo mese e mezzo ragazzi si è giocato praticamente sempre perché noi rispetto agli altri abbiamo avuto anche il viaggio di Catanzaro con quei 40 minuti e quindi abbiamo bisogno anche di recuperare un po' di energie fisiche e mentali però la squadra l'ho vista matura oggi, devo dire la verità ripeto, c'è da migliorare un po' nella qualità della giocata nella scelta però la squadra è stata matura ha tenuto il campo con personalità e questo mi fa vesperare anche perché affrontare questa Vibonese in chiave chiaramente a tendista giocavano con due linee a 4 a distanza di 5 metri era impossibile il gioco era un po' lento ma era lento non perché noi volessimo rallentare ma perché loro si abbassavano completamente anche con le punte fino al centro campo quindi non era facile trovare grosse linee di passaggio poi il campo sta migliorando ma ancora non è quel campo che ti consente la giocata veloce devi sempre fare un controllo in più e quindi quando perdi un tempo con le squadre che si chiudono tanto magari quel tempo di gioco lo paghi per creare superiorità numerica però nel complesso io sono soddisfatto ho visto una squadra solida tutti avremmo voluto vincere i ragazzi erano un po' delusi e mi fa piacere che siano delusi perché se pareggiamo e siamo delusi vuol dire che abbiamo voglia di vincere abbiamo voglia di fare sempre meglio e questa ambizione ci deve essere però ve l'ho detto dopo tre vittorie io questo campionato lo conosco un po' come voi ed sarà duro fino alla fine non dobbiamo pensare solo perché abbiamo fatto un filotto e ci siamo leggermente distanziati che il discorso salvezza sia chiuso questo è un campionato dove adesso le squadre sotto stanno facendo risultati come vedete e le partite sono complicate quindi rimaniamo concentrati, ambiziosi ma allo stesso tempo dobbiamo rimanere umili e quando non si può vincere non si deve perdere mister Roselli ha affermato ci ha detto insomma che dopo una ventina di minuti aveva capito la posizione di Palermo a svariare sulla tre quarti allora le chiedo loro avevano imbottigliato molto il traffico in mezzo al campo proprio su Urso si poteva fare un po' di più perché anche Simonelli vedevo che tendeva ad allargarsi per cercare qualche triangolazione mezzala, terzino, Simonelli devo dire che con Urso ancora non ho parlato poi ci parlerò perché gli avevo chiesto di stare un po' più in su un po' più alto non lo so se era una questione fisica o non so perché ogni tanto rimaneva troppo intermedio poteva usare a stare quei 5-10 metri più alto per cercare di sfruttare ogni tanto anche il cambio di gioco perché comunque loro facevano grandissima densità dentro non era facile imbucare quindi magari anche il cambio di gioco e l'attacco dell'aria diretto con questa palla che va a girare alle spalle dei difensori poteva essere una soluzione che abbiamo trovato poco qualche volta l'abbiamo fatto il primo tempo una volta con Marchici mi ricordo e Camilleri un paio di volte però secondo me potevamo provarlo un po' di più questa situazione perché trovavamo tanto spazio anche Federico 2-3 volte abbiamo trovato il cambio di gioco con Camilleri però ripeto poi ci sono anche gli avversari gli avversari sono stati concentrati sono stati molto solidi loro hanno badato poco al sottile palla mezza e mezza non rischiavano mai quindi anche la pressione non ci hanno consentito mai di rubare palla alta perché loro probabilmente anche la rimessa dal fondo la calciavano sempre lunga quindi anche la pressione alta non c'era perché comunque sia loro cercavano subito questa verticale su Plescia e andavano poi ad accorciare sulle seconde palle però ripeto la squadra è stata matura secondo me dobbiamo continuare a lavorare su alcuni movimenti offensivi e lo faremo ora avremo una settimana intera per lavorarci però sono contento della solidità della squadra una domanda mister contro squadre che giocano molto arroccate in difesa e praticamente non ti concedono spazio il tiro dai 20-25 metri potrebbe essere un'arma che potrebbe essere sfruttata meglio oltre a sfruttare meglio anche i calci da fermo abbiamo avuto ben 3-4 calci di punizione dai 25 metri che potevano essere sfruttati in maniera più adeguata e poi un'unica cosa bisogna dare atto che tra i migliori in campo è stato veramente Bas Chirotto che oltre che ha difeso bene è stato anche l'unico a essere un po' pericoloso davanti per quel discorso che facciamo prima di Urso Urso l'ha interpretata un po' meno quella situazione proprio perché loro erano tutti chiusi dentro l'unico spazio che avevamo è lo sfogo esterno perché loro comunque anche quei terzini rimanevano molto chiusi quindi coprivano bene l'area di rigore e ci lasciavano un po' di ampiezza Federico l'ha interpretata bene Urso era partito benissimo con quella scorribanda poi è stato un po' più timido secondo me poteva fare di più per quanto riguarda il tiro da fuori tra il primo e il secondo tempo proprio ad Adopo gliel'ho detto perché ha avuto secondo me una situazione quando ha vinto quel duello centrale ed ha puntato la linea ha cercato un'imbucata ma era arrivato mai al limite dell'area secondo me c'era la situazione per cacciare invece l'ha fatto il secondo tempo Simone purtroppo gli ha rimpallato il difensore però Palermo ha avuto una situazione in cui una percussione centrale ha cacciato in porta purtroppo ha impattato il difensore avversario però sì, quando trovi le squadre così chiuse dal limite bisogna avere la forza di calciare no, ma anche da 25 metri, 30 bisogna tirare fuori sì, no, lo so però poi anche quella è una questione anche del giocatore delle sensazioni che ha il giocatore in quel momento come hai visto Rossi? insomma, oggi si giocava all'occasione importante nel senso, lui agli attaccanti non direggia c'è una golle, serve, no? non è un'occasione secondo me si è spattuto molto sì, si è spattuto ha lavorato per la squadra non è una partita semplicissima visto che abbiamo trovato una squadra molto chiusa quindi aveva poco spazio secondo me un paio di volte ha fatto dei movimenti interessanti non abbiamo mai trovato un'opzione di profondità perché secondo me il primo tempo un paio di volte lui ha fatto dei buoni movimenti c'era la palla scoperta abbiamo preferito sempre continuare a cucire il gioco ogni tanto per variare dobbiamo anche optare per la giocata diretta perché se no le squadre avversarie stanno sempre lì già loro si abbassavano tanto quelle due o tre situazioni in cui le abbiamo trovati un po' aperti faccio un esempio c'è stata una palla il primo tempo che è andato in fuorigioco purtroppo Nicolas mi ha detto che la voleva calciare subito lì era imbalzata male ha dovuto fare un tocco è andato in fuorigioco altrimenti secondo me aveva fatto un gran movimento fuorilineo ad aprire la stessa è il cross il secondo tempo il cross del secondo tempo secondo me lì lui si è mosso bene però non doveva calciare ha avuto fretta di voler calciare col sinistro la posizione del filato invece una volta che la mette giù sei in aria con la palla puoi andare a duello il difensore in aria non può intervenire quindi lì poteva secondo me avere un po' di calma e decidere poi se fare tentare un dribbling venire dentro oppure poggiare una palla rimorchio per uno che arriva secondo me lì è stato frettoloso lì poteva essere un po' più lucido però non giocava da un po' sono convinto che Ale ci darà una grossa mano oggi si è sbattuto molto ripeto la partita non era semplice perché loro lì in mezzo hanno ottenuto sempre tanta densità e quindi non ha avuto grandi palloni giocabili però vedete che tornerà il gol presto quindi lui deve stare sereno deve giocare per la squadra quello che gli chiedo sempre grazie Marisardo considerando la grande pulizia di gioco che ha nel palleggio Camilleri la vedete invece in mediana avrebbe il doppio play pensaglia Camilleri per questo Palermo può sempre fare il trequartista o comunque stare quei 20 metri più avanti il ragazzo come la vede? dipende dipende anche i movimenti dipendono anche da come si muovono gli avversari è normale che oggi c'era poca necessità per le mezzali di venire a giocare perché tanto loro erano tutti dietro quindi il giro palla dietro era già in superiorità numerica era inutile venire giù con altri uomini quindi ho cercato di tenerli un po' più alti forse qualche giocata più veloce per trovare l'uomo tra le linee secondo me si poteva fare è vero che abbiamo avuto solo due giorni per preparare la partita e ultimamente avendo giocato sempre 4-3-3 avevamo la tendenza ad avere questa ampiezza con gli esterni che oggi non avevamo e avere le mezzali dentro invece oggi con tre quarti secondo me qualche giocata più veloce dentro la potevamo trovare qualche scambio più rapido però va bene così ora è inutile ripensarci la partita è finita così ci prendiamo questo punto dobbiamo essere consapevoli del percorso che stiamo facendo che secondo me negli ultimi due mesi la squadra secondo me a livello di prestazione non ha steccato mai perché siamo sempre stati all'interno della partita molto bene anche quando non è venuto il risultato secondo me come prestazioni ci siamo stati sempre quindi già questo secondo me è stato un grosso passo avanti dall'inizio almeno parlo della mia avventura a Viterbo poi è normale che per vincere le partite dobbiamo continuare ad alzare un po' il livello della qualità davanti come dico sempre però abbiamo un punto di partenza che è una solidità che abbiamo ritrovato e che ci sta dando continuità se miglioriamo nella scelta e nella qualità degli ultimi 30 metri secondo me possiamo raggiungere l'obiettivo quanto prima però tutto questo dipende da noi nella consapevolezza che c'è comunque di essere sempre molto umili perché i risultati di questo girone lo dimostrano non ci saranno partite semplici e anche le squadre sotto adesso vanno e vincono e tutti vendono caro la pelle e si arriva alle fine delle partite e ragazzi è così si può giocare bene meno bene conta poco adesso conta portare a casa il risultato e ci sono squadre che magari sono molto pratiche però hanno animo hanno voglia di lottare e noi dobbiamo essere pronti a tutto non ci dobbiamo sentire sereni assolutamente grazie a tutti